...e questo è un passaggio particolare, che fa parte della collaborazione dei centri comunitari. La nostra società ha lavorato parecchie manifestazioni, come si tratta di un evento storico. Mi sa, due e due giorni, e poi siamo qui ancora prodivi e sogliosi di prima. Siete sempre benvenuti a questa festa dei vostri, dei vostri ragazzi, che è un intervento, a quello che non è stato un paio. Doni venite a tutti i nostri paesi. Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti i nostri paesi. Grazie a tutti i nostri paesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri paesi. Grazie a tutti i nostri paesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri paesi. Grazie a tutti i nostri paesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri paesi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri paesi.